Alcune di queste immagini non sono mai state trasmesse. L'operatore aveva scaricato segretamente il girato. A causa della situazione di emergenza e del pericolo qui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24 ore. I mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo offensivo. Comunque è assolutamente confermato dai peniti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averli uccise, si sono civati delle loro casi. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventato di stella pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere al conto più.